Ciccioli belligeranti buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lorenz. Oggi in questo video volevo fare un po' di chiarezza, o meglio, spiegare quelle che sono state le mie sensazioni personali. Ieri, come ben sapete, abbiamo fatto la live reaction del trailer di Total War Faro, ne abbiamo anche commentato insieme a Samurai Warrior quello che è fondamentalmente il devblog di rilascio, con tutte le informazioni, con i costi, le caratteristiche. Oggi, rivedendo un po' tutti i commenti che ci avete lasciato nei video precedenti, e anche in virtù del fatto che poi sul Discord molti ragazzi hanno espresso la loro opinione, sono iniziate delle discussioni, ci tenevo a dire la mia, e fondamentalmente anche a rispondere ad alcune considerazioni che avete fatto. Allora, partiamo con il dire, e ve lo dico sinceramente, qual è stata la mia reazione. Allora, premetto che io mi aspettavo tutt'altra cosa, e chi mi segue sa che anche quando, insieme a Samurai Warrior, fecimo il video, chiamiamolo di speculation, però dove si ipotizzava il titolo del prossimo Total War, noi avevamo detto Empire 2. Ma io avevo anche una certa, non dico sicurezza, però quasi. Stessa cosa a Samurai, e qui parliamo di 5-6 mesi fa. Quando, poi dopo, siamo venuti a conoscenza del titolo, dell'ambientazione e tutto, confesso che la mia prima reaction è stata quella del A. Egitto. Ok. Allora. Io non lo nego, e non l'ho mai negato, e chi mi segue da tempo lo sa, che io non sono, come dire, l'opinionista aziendalista che supporta la software house a prescindere. È pieno il canale di video, di live, nei quali, se devo sparare a zero, io sparo a zero. Però, per poter esprimere un giudizio, io sono del parere che bisogna avere in mano il gioco, bisogna aver provato il gioco in tutte le sue forme, quindi dalle, dalle battaglie, dal multiplayer, dalla campagna. Ad oggi non è stato rilasciato nessun tipo di video a riguardo. Ok. Quello che ieri mi ha fatto un po' indispettire, specialmente in alcune discussioni che abbiamo portato avanti sul Discord, è l'approccio totalmente negativo di alcuni. Il che è legit, cioè, se io mi aspetto, che ne so, Empire 3, ammesso e non concesso che ci siano stati in questi tre anni, perché poi parliamo del 2020 come ultimo titolo storico, che è Total War Three Kingdoms, se ci sono stati degli spiragli che facessero pensare alla release di un Medieval 3 piuttosto che un Empire 2, allora poi dopo ci sta che uno dice no, ma cavolo, ma mi dovevi fare questo perché mi hai fatto farao. Ok. Non penso ci sia stato alcun tipo di comunicazione da parte di Creative Assembly o qualche leak che dicesse oh, guarda, fanno Medieval 3, oh, guarda, fanno Empire 2. No. Noi abbiamo fatto delle supposizioni in base a delle posizioni che si erano aperte in azienda, in base a dei ragionamenti che avevamo fatto sull'impiego del motore grafico di Warhammer e così via discorrendo. Ok. Non sono ragionamenti gampati per aria, però noi l'abbiamo sempre detto. Cercare di prevedere quello che bolle in pentola in casa Creative Assembly non è facile. Non è facile. Infatti fa anche notizia questo leak che è stato rilasciato prima della release di fare o che fondamentalmente spoilerava quello che era il nuovo titolo. Poi anche lì bisogna vedere se il leak è stato rilasciato volontariamente o involontariamente. Perché uno può anche rilasciarlo volontariamente per catalizzare sul prodotto e sull'azienda tutti i media del settore. C'è l'attenzione. Perché nel bene o nel male se una casa come Creative Assembly ti licca quello che è il prossimo Total War storico e tutti ci vanno a guardare. Infatti ci sono andati a guardare tutti. Ok. Quindi non è detto che sia stato un errore. Tornando invece a quello che è prettamente il mio punto di vista. Allora io ad oggi ho in mano il trailer e la scheda prodotto così come è stata fornita da Creative Assembly che è quella che avete visto nel secondo video. Io non ho elementi al momento per dire il prodotto è un prodotto valido il prodotto non è un prodotto valido. posso solamente dire che onestamente e non ne faccio mistero avrei preferito sicuramente un Medieval 3 avrei preferito sicuramente un Empire 2 ma da questo a dire che il prodotto fa schifo il prodotto è io ho sentito dei ragionamenti clamorosi che infatti scusa ma dov'è che hai avuto la fonte? Perché dimmelo perché non ho visto io le battaglie non ho visto io la campagna come fai a dirmi che il prodotto è fantasy? E che Palle Creative Assembly ha fatto ancora un Total War fantasy con gli eroi tipo Three Kingdoms ma dove li avete visti? Io non l'ho visto non lo so cioè fatemelo vedere questa cosa eh sì perché nei Total War quando al posto del nome della fazione diciamo la fazione si chiama come il personaggio è perché quello è un eroe luoghi comuni che già hanno trovato smentiti all'interno dei Total War stessi perché se prendete la campagna Imperator Augustus di Rome 2 Total War le fazioni specialmente quelle romane si chiamano esattamente come il generale perché c'è la fazione di Ottaviano la fazione di Marco Antonio la fazione di Lepido e di Pump and Magnus quindi non spaccatevi la testa prima ancora di cioè non fasciatevi la testa prima di esservela spaccata scusate cioè comunque non fatevi male questo è fondamentale i pipoli quindi cioè è la cosa che mi ha dato fastidio è che quando ieri facevo questi ragionamenti per spiegare ad alcuni che partivano proprio prevenuti in tutti i modi ragazzi calma nessuno vi sta puntando una rivoltella alla testa dicendo dovete comprare non dovete comprare il consiglio che vi do io è non comprate niente finché non avete visto qualche gameplay o sufficiente avete raccolto sufficiente materiale per poi dopo optare per una scelta ponderata e sono stato tacciato di ipocrisia sono stato tacciato di aziendalismo perché eh no ma come fai tu difendi a procedere no io non difendo nessuno forse no forse non avete capito forse non avete capito allora il fatto che io debba sottostare a determinati embargo relativi alla release di alcuni contenuti ma questo funziona non così solo nei total war in tante altre case in tante altre partnership non significa che il gioco mi debba piacere che io debba parlare per forza bene del gioco cioè io non sono IGN non sono una rivista specializzata che guarda caso se andate a vedere escono i giochi partono con dei voti altissimi e tante volte poi dopo due settimane si beccano una bombing review da parte degli utenti no perché non voglio entrare non voglio fare polemica in questo caso però io come dico sempre le recensioni vanno prese con le pinze tutte anche le mie perché io sono sincero quando vi faccio una recensione ma nella mia sincerità vi sto portando quello che è il mio punto di vista ok cioè fidatevi solamente dei vostri occhi raccogliete il gameplay guardate il gameplay ma poi dopo le conclusioni le dovete traere le dovete traere voi io non vi dirò mai compra un prodotto non comprare un prodotto cioè ieri addirittura alcuni hanno fatto dei ragionamenti etici e morali sulla release su il fatto che creative assembly abbia messo già la possibilità di acquistare il prodotto su steam ok senza aver pubblicato alcun tipo di gameplay sì ma non ti sta dicendo sei obbligato a comprarlo cioè state se tu sei uno un fan un sostenitore a prescindere ok a prescindere come lo è stato per rom 2 remastered cioè rom 2 remastered onestamente l'ho detto anche all'epoca è un gioco che io non giocherei perché è un gioco che secondo me è passato ok ma alla release alla release appena disponibile io l'avrei comprato dico l'avrei comprato perché me l'ha mandato creative assembly se non l'avrei comprato anche se non lo giocavo per un discorso di collezionismo per un discorso di senso di appartenenza a una community che è quella dei total war per fatti miei anche se poi non l'avevo gioco uno può ragionare anche in questo modo qua quindi dove sta l'etica e la morale nessuno ti sta puntando una pistola addosso ti sto semplicemente mettendo a disposizione l'apprezzatura ok così tu vedi la tua apprezzatura e poi dopo sarai tu a deciderlo se comprarlo in pre-release cosa che comunque comunque visti quelli che sono i bonus del pre-order parlando in questo caso di Farron io sconsiglio perché non sono dei bonus incredibili da dire cacchio mi sono steccato il pre-order la pre-release e quindi non posso avere questo personaggio sono cose abbastanza abbastanza cosmetico sono dei plus fondamentalmente nulla di marcato io vi dico aspettate di vedere dei gameplay noi quando avremo la possibilità di farvi vedere le battaglie la campagna le caratteristiche ve le faremo vedere e poi sarete voi a decidere io questo volevo dire oggi perché arrivare a discutere con persone che adducono motivazioni basate su delle supposizioni riguardo al gioco io non sto difendendo a priori total war faro è una cosa che non faccio ma non l'ho mai fatto ok però quello che mi piacerebbe è che la gente imparasse ad esprimere valutazioni quando il prodotto è visibile ok cioè poi uno può pensare come vuole io l'ho detto ragazzi io sono il primo ad essere deluso perché questo titolo non è il main historical che quando te l'annunciano solamente con il nome tu fai wow ok confesso che quando uscì Attila ai tempi e annunciarono total war Attila la mia reazione non fu wow fu a Attila unni decadenza impero romano vabbè poi è uscito l'ho giocato mi ci sono innamorato ok non è che tante volte il titolo fa tanto ok il periodo storico sicuramente fa tanto molti di voi mi hanno detto Dick si però nel periodo dei faraoni per quanto l'antico Egitto sia come dire affascinante ci sono poche fonti storiche è tutto è tutto vero poi poche fonti storiche parliamone non ci sono poche fonti storiche sull'antico Egitto ci sono sicuramente delle caratteristiche soprattutto dico soprattutto in battaglia perché poi dal punto di vista della campagna cosa che ancora non ho potuto giocare in realtà è proprio una società completamente diversa rispetto a quella di altri total war quindi non si può partire subito dal principio dicendo eh no ma tanto una cagata tanto sarà come Troy 2 tanto questo tanto quell'altro ma no raga ma perché bisogna partire così poi se tu mi dici non mi piace l'antico Egitto perché io volevo total war Empire 2 piuttosto che io voglio Medieval 3 tu capisci che per me se stai parlando con me non è un non è una valutazione cioè non mi stai dicendo niente mi stai dicendo che qualsiasi cosa io ti avrei avrei rilasciato a meno che non fosse stata Medieval 3 o Empire 2 non ti sarebbe mai piaciuta altri invece che mi dicono eh sì ma dic ma perché l'Egitto cacchio ci sono periodi storici che non sono mai stati trattati tipo rinascimento verissimo ma anche l'antico Egitto non è mai stato trattato cioè se vogliamo ragionarla da questo punto di vista qua è questo che mi fa pensare io ve lo dico io ho il timore che questo sia l'ennesimo l'ennesimo saga anche se non c'è scritto saga ce l'ho la paura e come se ce l'ho la paura perché visto il periodo storico e visto il ricordo non troppo felice che ho di Total War Troy che comunque come varietà di unità potrebbe tranquillamente essere diciamo un Troy 2.0 no ipoteticamente la paura c'è e sono il primo a dire che avrei voluto Medieval Trail Empire 2 però io voglio anche provarlo il gioco prima di giudicarlo ecco e questo che ci tenevo a dirvi più che altro ve l'ho detto prima a me quello che ha fatto un po' specie è che sono stato tacciato di ipocrisia dicendo sai su Youtube dici una cosa sul Discord dici un'altra non è assolutamente vero cioè potete entrare su Discord e vedere su Youtube è tutto pubblico poi ognuno trae le sue conclusioni non che debba dimostrare qualcosa a qualcuno però l'integrità è una cosa importantissima per me vale vale più di tutto io ho rigettato partnership anche con Gaijin perché mi imponevano di parlare bene del prodotto a prescindere di sostenere la software house grazie a Dio Creative Assembly non è una società che ragiona in questo modo cioè i content creator hanno libertà di dire quello che vogliono ovviamente ci sono degli embargo da rispettare ma questo con tutte le partnership ok perché andare a giudicare un prodotto senza averlo provato perdonatemi ma non è nel mio stile così come non è nel mio stile difendere a prescindere io sono l'ultimo degli azientaristi ragazzi anche perché non sono stipendiato da Creative Assembly quindi chissene io vi voglio bene ragazzi vi invito a seguirci sul canale lasciateci un like se il video vi è piaciuto e se avete magari delle domande lasciatemele sotto nel video che così poi magari le raccolgo e al prossimo vlog cerchiamo di rispondere un po' un po' a tutti io comunque rispondo ai commenti di solito ma per gli approfondimenti in genere poi dopo utilizzo il sistema dei vlog lo trovo più interattivo mi piace un po' di più detto questo mi raccomando ragazzi testa e pazienza che cosa vi devo dire io incrocio le dita spero che non sia una ciofega perché se sarà una ciofega urlo detto questo come diceva samurai ciao pipoli ci vediamo alla prossima